Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo il manuale tecniche di riparazione per pc desktop e notebook. Autore Maurizio Sorrentino, editore Libri Sandit. Numero di pagine 282. È un manuale a colori di ottima qualità. Vediamo un po' il sommario. Allora abbiamo una premessa dei consigli, gli attrezzi, strumenti, accessori per la manutenzione, test e diagnosi, i prodotti spray, strumenti di diagnosi, test di laboratorio, gli strumenti software di diagnosi, diagnostica e test, parti e componenti del notebook, parti plastiche, parti metalliche, altre parti e componenti del notebook, il blocco LCD, isolare il guasto, parti e componenti del desktop, cavi e connettori, pc desktop cable, il case, la ventola di raffreddamento, l'hard disk, lettore ottico, cd, dvd del notebook, lettore ottico, cd e dvd del pc desktop, gli alimentatori, revisione periodica sul pc desktop e notebook, le conclusioni e tanti consigli utili per chi vuole imparare a mettere le mani nel proprio computer. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto, grazie.